ho avuto la trasmissione con lo schermo che si muove in giro ho il nero a fianco se lo adatto allo schermo, non fa niente stiamo già andando no 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 perché guarda perché mi sono con lo schermo o adatto allo schermo? mi sono adatto allo schermo ciao a tutti puntata speciale e introduttiva di nascar 15 abbiamo anche uno asterzo questo è un po' country questa è la mia macchina allora posso vedere la mia macchina? si adesso vediamo subito allora allora il diciannovesimo è il mio primo evento è stato un po' penultimo ok si tengo posso posso ok ok ehm ok ok ah qui e indovinavo a caso le risposte cioè per quel poco che so di nascar ho beccato un sacco di risposte, stanno i quiz, questo mi piace guarda? si è una figata faccio i vedi facendo la casa faccio lo scherzo 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 automatico dell'automatico se non devi toccarli anche perché sugli ovali non lo posso permettere che comunque metti una marcia e al massimo la scali e comunque sono tutti altri centri non lo scherzo non lo scherzo non lo scherzo ti dirà dei coglioni però non lo scherzo 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 ma è dei coppande perché non sono con cui mi fa pensare a quello cosa è che almeno cinque sei battute su una setta di con cui è come quel dici a settissimo tempo alzando lo stesso infatti che più veramente più lavanda e non lo so prima qua, prima qua ma che è invenite guarda non venirebbe farti un video a te che giochi in realtà in mutande, vero? perché era di specificare? nessuno ti vede adesso ok, sono all'interno 2, 2, 2 2, 2 maledizione maledizione ha portato quello, non c'è dai, tutto è in retromarcia ora è runway quando di girare la macchina fai distrutto il mondo si e da buone, facciaci un bikini che lo sai come fa quando si, si con uno strezzo vero si 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 imbarca e ci se provo a accelerare fuori dalla pista si imbarca e ci forza e coraggio sono giuri di prova per vedere che sta il tracciato ci sono mazzardo mai a modificare le impostazioni della macchina non so se c'è il rollio ti assicuro che il rollio è veramente sicuro guarda i dettagli nonostante questa sia la ps3 e non ci sia per ps4 e ora che ho le gomme distrutte tenerle ancora intenibile non l'hai visto intenibile non mi resta a parte guarda la gente che intesa guarda che giro però c'è un nuovo follower non ti distrarre guida vabbè ringrazio il nuovo follower stripes lo stripe come cacchio ti chiamo ci vogliamo bene lo devo farli con l'acceleratore ringrazio il nuovo follower come ne faccio le due è struttando la gravità sul piano l'acceleratore in modo da perdere velocità diminuire la forza che c'è il programma di sbattare esterno posso dire che è impossibile per me prendere la porta al momento giusto cioè il punto in cui da la curva e si può accelerare di nuovo sia il punto di corte è strutturato è strutturato praticamente un sacco di tempo fa quando ero più giovane no non sono attiva il mio tratto bisogna essere per forza così colorito è strutturato è strutturato we are on a ps3 we're using the ps3 just the digital uh you can have just the digital version of it or buy it to game on a gamestop we've been here before buddy come on let's pick it up se voli poi stire eh guarda se we're on the left we're on the left we're on the left Dove scrive lì? 44 secondi E' un'infermità Non ti si vuole farci il cibo E ci ha perso la ciascuno a piena rispetto 28 secondi Quanto ne hai dietro? Un patto Non ne ho idea Tenga se le macchie forse 13 secondi Come vanno le braccia? Mi fa male Vedete mi ricolleghi C'è un gioco legato Apro direttamente Aspetta fammi scrivere questo Se ci tocca E' un gioco leggera le balle Però Come si scolle di qui C'è un mentale di nessuno Chi ha papà? Tu qua Ok Tu vai di 3 setato Non l'ho mai fatta Ok Non ho idea di cosa faccio Non ho idea di cosa succedere Se io tocco Sti statistiche Anche se me lo spiega di qua E io anche para il toscalo proprio in modo, come è il sito, dalla racchetta a Salve d'oro quanto sarà, un chilometro più o meno? Un'è, ok, hai chanati, hai chanati? Ok, i ragazzi, hai chanati hai chanati, hai chanati? sono andato dove sto gareggia che è pessimo che è pessimo cominciamo con una cosa una cosa leggera non faccio dipenderci infatti faccio il 20% sappiamo che qui un altro un altro un altro uno davis un altro non ci puoi scendere non ci puoi scendere ok, dietro qui ne sono due a chiudere e dai cazzo però queste palle, non erano toccate io queste cazzo di cose eh, è vaffanculo però tipo a dove sto io quando li racchiappo quelli probabilmente mai 42 ai signorari è infattibile queste cose è minato e quindi bisogna che tu possa riprenderli effettivamente a meno che non succeda un metro guarda come scoda la macchia? si però poi ma cambia rituale scendere se li cambiamo in quel mondo guarda è frenato sto ricordo vedo non sono secondo me sono quel mi piaceva il risuaggio da dentro perché ti aiutano le guida così vedo tutta la macchina non mi rendo conto poi prende il joy e provare i tasti quando non c'è così a quando quelli sotto r2 con le robe l'arte l1 no no la torre la torre 35 del muso come la macchiavera Questa cosa è buona. Perchè, il meno per l'altro, buon lavoro. Magari, ragazzi, si può lavorare per questo. Si, puoi, non so, può lavorare per questo錢? Questa è la mia. Grazie a tutti. 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 no no volevo fa lanciare e riceve, spiegando questo fa quindi che modo si tiene gli skill play gli skill play? gli skill play QB e giudo tutti in affletto non mi voglio essere giudicato anche in contemporanea di 60 anni porti i palloni in fondo puoi vedere l'obstri non mi voglio essere giudicato non mi voglio essere giudicato va bene no perché finisce la gara? ok let's go, let's go, step it up 25 di 40, voglio il giro come on man, let's pass that car just keep a good pace, you're doing good clear high so, so 10 km di perdi 2 secondi di perdi to ver if you aren't going there 2 secondi di perdi 3 secondi di perdi 3 secondi di perdi 3 secondi di perdi 4 secondi di perdi 2 secondi di perdi poi ci stiamo a pezzo piano giù per tutti i testi per giù sono secondo e quarto più grande per saltigli due lecce da ribida al limite se non troppo a 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 al giro a 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 7 a go non so, non so se ho pensato a 6G 6 to go nobody's gonna make it easy for us today buddy 5 to go no rush doc, nice to see you just move, concentrate watch out look at the sign that there's a cylinder here in the direction 4 to go come on work your way to the prime I'm going to take a look at the front I'm going to take a look at the front and I'm going to take a look at the front and I'm going to take a look at the front and now I have to go to a 7 second and then I'm going to take a look at the front come che c'è questo, che c'è il tuo diretto ah, che c'è il tuo piaccio, non è che c'è il tuo piaccio Sì, vabbè, vabbè, vabbè. il mio personal peste è un secondo e quattro lontano dal che è un altro ok, lontano let's go to work now buddy, come on check the flag ah non c'è campinatore comunque dietro eh prima Daytona trentesimo trentesimo se vuoi fatto considerate la competizione questo non è una buona ruota lavoreremo sui auto per la prossima settimana e la prossima rata completamente a caso no ok lontano lontano alla prossima lontano chan lontano ... ... ... ... un attimo 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 ci vediamo la prossima puntata ciao a tutti